Rendere omaggio ad un imprenditore che si ne va è sempre difficile. Trovare le parole giuste, raccontarne in maniera familiare la personalità con i pregi e difetti è un qualcosa che può fare solo la famiglia. Per questo nel caso di Valentino Bellicini soprannominato Piedelfra, patron dell'omonimo inferriere, abbiamo preferito affidare questo ricordo alla figlia Gianfranca o meglio Chicca come tutti la conoscono nella community siderurgica. Un ricordo che parte dall'insegnamento più grande lasciato in eredità. L'insegnamento principale è il fatto di non arrendersi mai. Ho cercato in questi anni di farlo sempre più mio perché ho vissuto con lui le difficoltà che ha dovuto attraversare sono state spesso causate da persone a lui molto vicine e questa è stata la sua più grande vittoria oltre che alla sua più grande vendetta cioè hanno cercato di mettergli il bastone tra le ruote lui di questo ne ha fatto una forza e quindi il non mollare mai sarà sempre una una luce per me. Un uomo forte e duro come l'acciaio con il quale anche per la figlia i ricordi si intrecciano con la sua grande dedizione all'azienda. Io direi che ho pochi ricordi che non siano legati all'acciaio di mio padre è una fortuna e anche una sfortuna io a casa l'ho vissuto molto poco. Quasi tutti i miei ricordi sono legati all'azienda e all'acciaio. Siamo cresciuti tra virgolette insieme perché l'ho vissuto dall'adolescenza in poi e per poterlo vivere io ho dovuto affezionarmi da ragazzina e amare poi da grande l'acciaio come lui. Un legame indissodubile quello tra imprenditore d'azienda al punto che ancora oggi la sua presenza viene sentita in maniera chiara in quella che ha sempre considerato una famiglia. Lui ha lasciato indubbiamente il suo cuore oltre che al suo esempio in azienda però io lo ritrovo ogni giorno quando quando entro in particolare quando comunque entro il reparto di laminazione e lui è lì. Io ho voluto riportare papà in reparto quando quando è morto perché questa è casa sua, quella è stata la sua creatura e quindi credo che tutte le persone che entrano qua dentro ritrovino un pezzo di lui. Una famiglia capace di provare affetto anche nei ricordi i lati più spigolosi dell'imprenditore Camuno. Papà non era diplomatico per niente e chi l'ha conosciuto lo può testimoniare però l'ho visto spesso attaccare tra virgolette discutere con delle persone ma dopo dieci minuti papà diceva ok adesso è finita adesso andiamo a bere il caffè e questa è la cosa che a me è piaciuta di lui perché aveva un modo di rapportarsi con le persone molto particolare molto crudo molto duro ma il rancore non faceva parte di lui cioè lui la metteva via subito ed è per questo secondo me che così tanta gente poi ha dato e ci ha dato una testimonianza di un affetto verso verso papà così così eclatante è stato molto consolante anche per per la mia mamma ho visto gente che non vedevo da tantissimo tempo e ho visto gente piangere sinceramente è bello vedere come in questi momenti le persone si facciano avanti con un messaggio con una presenza è stato se vuoi per me una scoperta una scoperta vedere così tanto affetto che ci ha circondato e io ricordo una per una le persone che sono state qui che mi hanno scritto e ed è stato per me un una vera consolazione infine chicca a chi ha conosciuto il padre lascia l'augurio di conservarne il ricordo migliore ognuno secondo me si deve tenere il pezzo che preferiva di papà credo che ciascuno di noi abbia qualcosa che lo ricorda un aneddoto particolare a cui è legato ciascuno si deve portare quel pezzo di papà che lo ha fatto sorridere e se qualcuno ha avuto qualche qualche torto qualche qualche sgarbo credo che sia stato compensato dalla parte positiva di grazie a tutti